La fotografia fine art incontra l'alta cucina in un'esperienza percettiva tra vista e palato, percorso fotografico con degustazione. Il fotografo Ottavio Celestino ha presentato il progetto site specific Bubalus per il mini caseificio Costanzo, un ulteriore esempio di sodalizio tra un artista e un'azienda. In questo caso il fotografo interpreta la filosofia del caseificio Aversano, il suo sano e profondo radicamento con il territorio. Scelte di questo tipo proiettano le aziende su un piano di sensibilità e ricercatezza culturale che ha dei ritorni sempre positivi nella percezione del cliente, è un'esperienza senza filtri, semplice e schietta vera come il rapporto che da un incontro fortuito ha fatto del legame tra la famiglia Costanzo e l'autore una straordinaria amicizia. Celestino espone le sue bufale in enormi ritratti in bianco e nero, quasi in dimensione reale, interpretate come regine produttrici dell'oro bianco, riprese in primissimo piano su un fondo bianco evanescente, come se fossero delle top model, le quali accompagneranno e forse scuderanno il cliente che gode seduto a tavola la proposta culinaria del ristorante. La mostra sarà esposta permanentemente al ristorante del caseificio Costanzo di Aversa e fruibile in maniera gratuita.